Ritorniamo insieme per fare un viaggio ideale in Ucraina e lo facciamo grazie al collegamento con Massimiliano Sinifredi della comunità di Sant'Egidio. Buongiorno Massimiliano, ben trovato. Buongiorno a tutti i telespettatori di Padre Pio TV. Il motivo per cui siamo in collegamento con te è duplice, da una parte perché l'Ucraina è purtroppo ancora scenario di una guerra che non sembra trovare una risoluzione, ma anche perché siamo in vista della Pasqua ortodossa che si celebra domenica prossima. La comunità di Sant'Egidio è presente in Ucraina dal 1991. Ecco, Massimiliano, sono tanti anni ormai che siete lì e purtroppo avete fatto, state facendo l'esperienza della guerra che è sempre un'esperienza forte che ci mette in discussione sotto più punti di vista. Partirei da quello che è lo scenario attuale, qual è la situazione umanitaria in questo momento dopo tanti mesi di guerra per arrivare poi al lavoro prezioso che state svolgendo voi lì. Sì, purtroppo in Ucraina domenica sarà Pasqua ed è una Pasqua di guerra. La situazione umanitaria è molto difficile, è peggiorata, soprattutto perché dopo due anni ci siamo stancati di vedere questa guerra, ma le conseguenze della guerra le pagano soprattutto le famiglie che sono sfollate. Vorrei dire che domenica, era la domenica delle palme, e le persone della comunità di Sant'Egidio hanno portato le palme, che sono un segno di pace, nei reparti degli ospedali dove sono i feriti della guerra. E la situazione è veramente drammatica, scorrono delle immagini terribili di distruzione. Qui vediamo il centro della comunità di Sant'Egidio dove ogni settimana vengono distribuite tonnellate di pacchi alimentari e sono gli stessi volontari di Sant'Egidio, a loro volta sfollati, a loro volta vittime della guerra, che aiutano altre persone. Questo è, possiamo dire, il messaggio di questa Pasqua, che dalla croce della guerra vuole guardare con speranza verso la resurrezione. Ed è davvero fondamentale in questi momenti, in questi frangenti, questo tipo di supporto. Io so che la comunità di Sant'Egidio è presente in varie aree del paese, c'è anche, come dire, posso immaginare uno scambio di risorse umane che si spostano dalle zone più calme a quelle più calde? Sì, diciamo che la guerra ha provocato uno spostamento enorme di popolazioni. Pensiamo che sono 6 milioni gli ucraini che hanno attraversato la frontiera, si trovano in Polonia, in Germania, in Italia, numerosissimi, ma sono altrettanti 7 milioni circa quelli che hanno dovuto abbandonare le regioni che sono più interessate dalle azioni militari. Quindi dall'est, dalle città dell'est, si sono spostati a Kiev, si sono spostati a Leopoli, che è diventata la seconda città dell'Ucraina, ma soprattutto sono persone che continuano ad aiutare. Allora, a me ha colpito molto il racconto di alcuni giovani da Kharkiv, che è la città attualmente interessata da bombardamenti continui da parte dell'esercito russo. Ecco a Kharkiv i nostri amici di Sant'Egidio, giovanissimi, fanno la scuola della pace, cioè attività per i minori, dentro ai rifugi. E voi pensate che cosa significa, mentre c'è un bombardamento, parlare di pace, dare a quei bambini che sono sotto le bombe la sensazione che c'è sicurezza e che ci sarà un futuro di pace. È un grande lavoro umanitario, quello di Sant'Egidio, che tutte le nostre comunità in Europa sostengono con l'invio di aiuti, con l'invio di risorse che vengono poi distribuite a chi ha maggiormente bisogno. Poi c'è una grande sofferenza che è quella degli anziani. Gli anziani sono stati dimenticati in questa guerra, perché è vero si parla della mobilitazione dei soldati, si parla delle famiglie sfollate, ma non si parla di tanti anziani che continuano a vivere in queste case distrutte e bombardate. Perché gli anziani difficilmente si spostano dai luoghi dove sono cresciuti, dove hanno vissuto e quindi questo provoca un'enorme sofferenza. Perché in città che si svuotano, in questi palazzi semidistrutti, continuano a vivere degli anziani che i nostri volontari, come si vede in queste immagini, continuano a visitare a casa per portare soccorso e per portare parole di conforto. E lo abbiamo detto spesso, poi la cruda realtà è che a fare la spesa della guerra sono sempre le persone più fragili, più deboli, quelle indifese. Giustamente tu citavi i bambini, innocenti a prescindere per definizione, e gli anziani, la popolazione più inerme. Massimiliano, come vedi, se posso chiedere un tuo parere personale, che orizzonte vedi rispetto alla situazione che stiamo vivendo in Ucraina con questa guerra? Secondo te l'estate porterà qualche buona notizia oppure il contrario? Ce lo auguriamo tutti e se lo augurano soprattutto gli ucraini che stanno soffrendo, i civili. E vorrei dire che le nostre comunità in Ucraina, a Kiev, a Leopole, a Ivano-Franchisk, a Kharkiv, costruiscono pezzi di pace. Papa Francesco da tempo utilizza questa espressione drammatica, terza guerra mondiale a pezzi. Vediamo che purtroppo i pezzi di guerra si estendono dall'Ucraina, ma pensiamo alla terribile situazione di Gaza e ad altri conflitti che nel mondo provocano tante sofferenze. Questi sono pezzi di guerra, ma quando si aiutano le vittime della guerra, gli sfollati, quando si portano parole di speranza e generi di conforto a chi sta soffrendo la guerra, si costruiscono pezzi di pace. Nei nostri centri, oltre a distribuire generi alimentari, parliamo con le persone, diamo loro speranza, cerchiamo di aiutarle anche concretamente a superare questa fase difficile che divide le famiglie. Ecco, quando si ricostruisce una famiglia, quando si dona speranza, si costruisce un pezzo di pace. E' con questa prospettiva che noi dobbiamo guardare al futuro e dobbiamo anche guardare al futuro e pregare perché la missione del cardinale Matteo Zuppi abbia successo. Se ne parla poco, ma tanto è stato fatto per aiutare i bambini, che sono le vittime principali di questo conflitto, a ritornare in Ucraina. Si parlava di migliaia di bambini che sono stati trasferiti forzosamente dall'Ucraina alla Russia. Ecco, ne stanno tornando a centinaia e questa è una buona notizia che ci incoraggia a guardare il futuro con speranza. Ecco, ci auguriamo davvero che questi mattoncini di pace siano sempre più numerosi, costruiscano ponti che facciano ritornare la popolazione dell'Ucraina alla normalità, soprattutto per i bambini e per gli anziani. In conclusione, Massimiliano, da parte nostra veramente un ringraziamento sentito per il lavoro che state svolgendo lì voi e tutte le altre associazioni umanitarie che ci fanno sentire meno inermi, perché ecco, tante volte ognuno di noi desidera la pace, ma in questi scenari si sente davvero piccolo e insignificante. Grazie a persone come voi, organizzazioni come le vostre, ci sentiamo un po' meno inutili perché possiamo sostenerle in molti modi e perché appunto, grazie al vostro esempio, la speranza che la pace torni a regnare sulla terra, soprattutto in questi luoghi martoriati dalle bombe, non si avana. Grazie Massimiliano. Grazie, continuate a sostenerci sul sito santegidio.org. Un saluto a tutti. Non mancherà, non mancherà il nostro supporto. Grazie a te per la disponibilità e buon lavoro con la comunità di Sant'Egidio. Bene, è arrivato il momento di tirare nuovamente il fiato, ma ci ritroviamo tra pochissimo per la volata finale di Just Today. Grazie. Grazie.